Amici 2023, Iore lascia il cast e il programma, silenzio sui dettagli dell'addio. Iore, allievo di Amici 2023, ha scelto di abbandonare definitivamente i cast della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi. Nel corso della puntata del Daitime trasmesse venerdì 17 febbraio, il cantante ha deciso di gettare la spugna a un passo dall'inizio del serale di questa 22esima edizione. La cui messa in onda è in programma da marzo nel primo time di Canale 5. La puntata del Daitime pomeridiano di Amici 2023 in onda questo venerdì pomeriggio è stata incentrata sulla scelta finale del cantante Iore. Contrariamente a ogni aspettativa, Iore ha scelto di abbandonare definitivamente i cast di questa edizione. Ma non sono state date troppe spiegazioni in merito alla sua scelta. Nel corso della puntata trasmessa su Canale 5 è stato svelato che il cantante ha fatto questa scelta dettata da motivi personali. Poche immagini trasmesse in tv, se non quelle degli abbracci con i suoi compagni di avventura di questa 22esima edizione e le valigie pronte prima di lasciare definitivamente la casetta. Una decisione volontaria che arriva a pochi giorni di distanza dalla comunicazione del suo profru di Serbi. Il quale ha scelto di far entrare un nuovo allievo, Mezical, per sostituire uno dei suoi già in gara. In attesa di scoprire e se verrà fatta chiarezza sui motivi specifici che hanno spinto Iore ad abbandonare il programma e lasciare il cast di Amici 2023 a un passo dal serale. Cresce l'attesa per la nuova puntata pomeridiana di domenica 19 febbraio. Al centro dell'attenzione ci saranno le sorti dei concorrenti che stanno portando avanti il loro percorso e attendono di sapere se riusciranno o meno ad accedere al serale. Tra i verdetti particolarmente attesi dagli spettatori c'è quello legato al ballerino Mattia Cenzola. Che a oggi continua a essere uno dei volti più amati dal pubblico social di Amici 22. In tanti sperano, infatti, sperano che possa conquistare la maglia d'oro, che gli permetterà così di accedere allo show di Prime Time. Tra gli ospiti di questa settimana, invece, potrebbero esserci alcuni concorrenti dell'ultima edizione del Festival di Sanremo. Tra cui Luca D'Alessio, in arte LDA, che ha raggiunto il successo e la massima popolarità proprio grazie alla partecipazione al talent show di Maria De Filippi. Tra lo seguito di Hawaii Sous 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 Sous